tg animale presentato da chiedetelo a svetlana e si david ma che è questo ma non dall'inghilterra ma tu questo tg animale oh no girai questo questo video questo video video è un backstage per forza è così backstage ragazzi allora siamo pronti questa come si mette il panino come si mette? questa è pelata 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 questo come metto? da qua c'è il che aspetta però fermate qua c'è l'edichetta c'è l'edichetta cosi ammedaglio 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 che pane usiamo? pane usato? no 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 che giro non d'ora cosi è andato pronto ma tu stai becce la frangetta cosi dici frangetta dietro è così però tenda a porci unito al pagno si ahahah non fai un film il film così se no non vedevole cazzo che lo vede 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 ma questo non è un hg